ciao sono roberto miluzzi titolare della ftg o meglio fill the gap colma il gap benvenuti nel salotto di casa mia questo video messaggio che stiamo girando è per la mia carissima amica vanna del rio sarda e tutti i suoi distributori della herbalife e non solo i suoi ma tutta l'organizzazione herbalife della sardegna è ovvio che questo video poi verrà pubblicato su youtube per facilitarne appunto che i veicoli in tutta la sardegna e pertanto lo renderemo pubblico non ci diremo niente di strano quindi lo faremo in modo molto semplice naturale staremo insieme circa due tre minuti questo video è promozionale per un evento che stiamo preparando con vanna e un millionaire team della herbalife vale a dire albo barbie sicuramente molti di voi conosceranno stiamo preparando un evento in sardegna appunto perché questo evento perché è stato richiesta la mia presenza in quanto conosco il mondo herbalife provengo da quel mondo lì o meglio anche da quel mondo lì nel 96 ho conosciuto l'herbalife ero sovrappeso fino al 2000 alla morte di mark hughes ero distributore indipendente herbalife o meglio ero un global expansion team quindi ho dei bei ricordi e fino a poco tempo fa pesavo 131 chili ho deciso poi di riprendere i prodotti e sto riprendendo peso grazie anche all'aiuto dei prodotti herbalife quindi è un mondo che veramente amo e stimo tantissimo i suoi distributori e soprattutto il presidente che anche se ci ha lasciato ha sicuramente fatto qualche cosa di irripetibile nel mondo degli integratori se in questo momento tutto ti fila liscio tutto va per il meglio puoi anche tranquillamente spengere questo video messaggio che non ti serve proprio a niente non fa per te se invece nella tua attività pensi di poter migliorare qualche cosa o per incrementare le tue vendite o per incrementare la tua rete con network con distributori chiamali come vuoi allora ti suggerisco di stare con me altri due tre minuti e modo che ti spiego che cosa io ho strutturato elaborato per le vendite dirette e non soltanto di integratori come dicevo prima conosco anche il mondo di herbalife ma ho conosciuto anche altri network e ho frequentato diverse accademie per quanto riguarda la comunicazione linguaggio del corpo e tante altre belle cose hanno fatto la differenza e fanno tuttora la differenza io mi sono personalizzato il mio percorso e mi funziona tantissimo ho dei successi incredibili in qualsiasi azienda dove vado lascio sicuramente un'impronta positiva e potenziante se vi dovessi fare degli esempi che vi farò sicuramente quando ci vedremo in sardegna capite perfettamente di che cosa stiamo parlando una cosa è certa che se vi impegnate a fondo nel seguire i miei suggerimenti e rimarrete a fianco con me perché io scenderò tutte le settimane ogni 15 giorni a seconda la frequenza delle persone che avremo scenderò da voi in sardegna io mi prendo questo impegno per voi a fatto che voi lo vogliate a fatto che voi prendete un impegno serio con voi stessi di far crescere veramente questa azienda avete un potenziale d'oro avete un prodotto incredibile fantastico io ne sono veramente entusiasta ogni volta che lo prendo e veramente lo bacio pertanto potete fare molto di più di quello che pensate adesso veramente molto 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 quindi sarò felice di stare con voi io circa tra una ventina di giorni ma la data precisa la dirà la stessa vanna fine aprile faremo un seminario di 4 5 ore 4 5 ore veramente basta semplicemente per conoscerci ma lì vi spiegherò nei dettagli che cosa ho intenzione di fare con voi o meglio un percorso di almeno un anno perché percorso perché sicuramente voi fate dei seminari full immersion 2 3 4 giorni fate degli estravaganze bellissimo ritornate tutti belli carichi fighissimi poi il giorno dopo vi incontrate con una realtà che non è quella che avete lasciato nei seminari e gli cominciano le difficoltà cominciano veramente ma chi me lo fa fare eccetera 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 so che non è il tuo caso che mi stai guardando adesso ma sicuramente conosci qualcuno che pensa così e agisce in questo modo pertanto ci sono molte spille in herbalife arrugginite come dico io o meglio sono anni 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 che hanno sempre la stessa identica spilla come mai eppure oggi avete cose che una volta non avevamo la pubblicità più grande herbalife il barcellona ha vinto contro il mio mila ieri sera pertanto vorrei dire più grande di quella e tante altre non non l'avevamo eppure i risultati c'erano stesso cosa manca ancora riflettete un attimo forse il vostro atteggiamento il cosa vi manca eventualmente possiamo condividerlo insieme tra una ventina di giorni vi farò ragionare su alcune cose perché perché ho potuto vedere dall'esterno le vedo in un modo che voi sicuramente focalizzati non potete vedere vi invito semplicemente a osservare le cose da un altro punto di vista qualcuno prima di voi l'ha fatto e questo qualcuno ve lo ripeto è albobarmi un milione al tema lui ha visto come io lavoro con altri network lui ha visto i miei numeri quanto denaro muovo alle aziende dove lavoro ha visto quanta gente nuova nuova che non conosco riesco a reclutare e far mettere subito a frutto le proprie azioni quindi lui si è tra virgolette innamorato del mio sistema e si è iscritto al mio percorso formativo qui in Uglina noi tutte le settimane viene a casa mia in questo salotto siamo veramente poche persone intimi e ho creato un qualche cosa di molto particolare per capi strutture lui è privilegiato ad essere oltre il mio amico ad essere qui a casa e ha capito la potenzialità che può avere il mio percorso o questo percorso che facciamo insieme a tutti gli interessati vi suggerisco di rimanere in contatto con vanna lei stabilirà la data e il luogo dove faremo il primo seminario costo ridicolo veramente mi pagherò soltanto le spese dell'aereo e poche altri spicci 30 euro a testa veramente ridicolo staremo insieme cinque ore ripeto sarà un seminario più che altro per farvi notare e capire e condividere questo percorso che ho per voi pronto dopodiché vi spiegherò nei dettagli come ci muoveremo e dall'istruttureremo poi tutto il proseguo del nostro percorso è fondamentale che voi lasciate la vostra mail precisa nome e cognome numero di telefono i vostri ospiti stessa cosa mail e tutto perché poi io vi manderò del mio materiale da poter scaricare tranquillamente in modo completamente gratuito e sarà un piacere sentirci perché no anche a distanza di tempo detto ciò rimaniamo focalizzati sul prossimo seminario ripeto contattate vanna lei vi dirà di preciso quando e dove lo faremo sarà un piacere per me vi do un suggerimento solamente un suggerimento portate quanta più gente potete a questo evento amici parenti conoscenti distributori clienti non distributori veramente portate quante più gente potete non perché arriva il messia ma arriva una persona che è competente di quello che dice quello che sta facendo ma soprattutto quello sta facendo e i miei risultati mi danno ragione un bel saluto a tutti ciao anna a presto incontrarci di nuovo in sardegna ciao popolo verità ciao a tutti